A fronte dei 66 incidenti stradali verificatisi nel trimestre estivo del 2018, nel corso dell'attuale stagione la Polstrada è intervenuta in occasione di 38 incidenti, invariato il bilancio riferito a quelli con esito mortale che ammonta a un decesso. In questo periodo sono state impiegate 420 pattuglie, circa 4 pattuglie al giorno, che hanno svolto 338 servizi di vigilanza stradale, mentre 22 pattuglie sono state coinvolte in occasione di manifestazioni sportive. La sezione Polizia Stradale di Belluno ha intensificato l'attività di vigilanza sul territorio di competenza, predisponendo specifici servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti non corretti, come l'elevata velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, l'uso di telefonini cellulari alla guida. Per quanto riguarda le contravvenzioni, si sono registrati complessivamente 7.718 punti decurtati, le patenti ritirate, sono state 134, le carte di circolazione 22, mentre sono stati sottoposti a fermo e successivo sequestro 30 veicoli. Per un'azione più incisiva, soprattutto in un periodo come quello estivo, contraddistinto da un notevole afflusso di turisti, le attività di prevenzione e vigilanza svolte dalle pattuglie della stradale della sezione hanno rilevato 3.160 infrazioni al codice della strada, tra questi ne spiccano 1.637 per il superamento dei limiti di velocità e 307 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. L'attività di prevenzione ha permesso infine di sanzionare 184 conducenti che durante la guida hanno fatto uso del telefono cellulare.